Assemblea degli oltre 100 lavoratori di Formula Ambiente di Chieti che si occupa della raccolta dei rifiuti in città. I dipendenti non percepiscono lo stipendio e sono in stato di agitazione. Non si escludono disagio per i cittadini. Sembra che dagli incontri degli ultimi giorni, a detta dei sindacati, non sia arrivata alcuna rassicurazione. All'Assemblea hanno partecipato i lavoratori, la RSU aziendale e anche i sindacalisti Michele Mastro, Giuseppe Fit Cisle, Giuseppe Rucci, FP CGL. Chi ascoltiamo? La situazione è molto delicata per il semplice fatto che nell'incontro che abbiamo tenuto ieri con l'azienda non hanno avuto di fatto risposte concrete da parte del Comune per quello che riguarda le somme che devono avere. E quindi ci troviamo ancora nella situazione che non possono naturalmente erogare i salari ai dipendenti e quindi oggi abbiamo convocato urgentemente un'assemblea per decidere il da farsi. Naturalmente qui la situazione è molto complicata per il semplice fatto che stiamo di fronte anche a un appalto nuovo che dovrà partire con l'azienda che ha già fatto degli investimenti e con tutto quello che ne consegue in termini economici. Aggiungiamo anche che abbiamo ulteriormente sollecitato il prefetto ad attivare il tavolo presso la prefettura perché ci troviamo di fronte a una situazione paradossale, nel senso che qualora l'azienda dovesse attivare la cassa integrazione e prima di attivarla c'è bisogno che il prefetto definisca e stabilisca i servizi minimi che comunque andranno a determinare delle problematiche non solo ai lavoratori ma anche alla cittadinanza. Preoccupazione aggiunge Rucci anche per altri lavoratori. Nella giornata di ieri già abbiamo ricevuto comunicazione formale da teati servizi che gli stipendi slitteranno, c'è la stessa situazione a Chiedi Solidale. Marco Tacconelli, RSU, Formula Ambiente. Allo stato attuale possiamo dire che sono tutte chiacchiere, di concreto non c'è nulla, sappiamo che domani c'è un altro incontro fra azienda e comune dove l'azienda per quello che ha detto a noi pretenderà nero su bianco gli accordi verbali che hanno preso, 100 famiglie, 100 operaie, 100 famiglie e stiamo sempre in condizioni peggiori e non vediamo la luce in fondo al tunnel. Non si escludono azioni eclatanti come lo sciopero? Vogliamo arrivare allo sciopero? No. Faremo sciopero se non si risolve la situazione? Sì.